Pam 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 Fratelli d'Italia Ma basta, basta Hai diventato un canale di canterini? Assolutissimamente no, ma Ci stava bene come intro, ok? Perché qua si tratta Benvenuti sui sporti da passion Di un 2v2 In arena di due italiani Due new entry all'interno del nostro magico team Due new entry che ci regalano uno dei loro gameplay Due new entry che quest'oggi Voglio essere sincerissimo Non hanno brillato Scusate, bisogna dirlo, bisogna dirlo Come sempre in analyst prima mi guardo i replay Butto giù un paio di questioni o argomenti Che il video può trattare E poi cerchiamo di metterla in campo Bene Il game di quest'oggi Spoiler Poi potete anche chiudere il video se lo volete E' stato vinto Per colpa Di Jimbo Lasciate che vi spieghi Ci troviamo in un 2v2 Il team che vedremo quest'oggi E Stitch E Piccololta Il ragazzo che ci ha mandato il replay quest'oggi Rispettivamente il blu E il verde Contro Maximilian Dress E Jimbo Che boh Non ci sa Ok Comunque sia Noterete Che in questo game Spicca un player In assoluto Senza ombra di dubbio Ok Dall'altra parte Abbiamo Un player Che fa un po' di fatica A tenere un attimino Il passo del suo avversario Il suo diretto Interessato E abbiamo sicuramente Un help importante Da parte Di uno dei nostri due giocatori Ma lo scopriremo Guardandolo pian piano Ma c'è un grande assente In questo game E cioè Quello Che fa Vincere il game Al nostro team Allora Iniziamo subito Amici Cercando di buttare giù Un attimino le basi O comunque Cercando di descrivere Questi due player Questi due player Non sono Loro stessi Si descrivono così Nell'email Non sono Eccelsi Ok Ci troviamo Su Un ipotetico Elo 500 A vedere Anche come giocano Diciamo che C'è bisogno No Sapete Sempre Di quei famosi Passaggi Di quella famosa Evoluzione Di quel famoso Di quella famosa Metamorfosi Di cui parliamo Molto spesso In age Di spostamento Di mentalità Ok Si vede quindi Che dal punto di vista Tecnico Macro Gestione Siamo Siamo Appena appena Abbozzati I tempi Sono lunghi E molte volte Si va a culo Bisogna dirlo Bisogna dirlo Non ci vergogniamo Assolutissimamente Ok E questa volta Fratelli d'Italia Li chiameremo così Il nostro Il nostro team Vi è andata Molto Di culo Lasciate un secondo Dobbiamo fare Un altro passettino In parte Voi lo sapete Seguo Un team Un team Che è attualmente Impegnato in tornei A carattere nazionale Ok Bene Ve l'ho sempre detto A che cosa Servo io Sono per caso Un player A livello nazionale No Assolutissimamente no Ma Grazie A Gli anni Che ormai iniziano A essere più di tre Nel settore Professionistico Dei videogiochi Grazie a corsi Grazie alla Comunicazione Psicologia Metodo E apprendimento Sicuramente Ho sviluppato No Delle competenze Che non sono Tanto quello Di insegnare Ai player A giocare Quanto Nel far leva In ciò Che i player Non vedono Ed è sotto I loro occhi E qual è la prima cosa Che secondo voi Quando si gioca In squadre In age Dovrebbe essere Tenuto Sott'occhio Ma ragazzi I bonus Di squadra Abbiamo da una parte I franchi E i goti I goti Sappiamo che danno Il bonus di squadra Il più 20% Di velocità Nella creazione Negli alloggiamenti Delle unità militari Mentre I franchi Il campo visivo Della cavaleria Più due Non Non è Non è bonus Da poco O per meglio dire Non sono piccoli bonus Che non potete Permettervi di considerare Quando scegliete La vostra civ Dal momento 1 Soprattutto anche La civ Voi lo sapete Dal momento 2 Che quando Entrate in una determinata Mappa Faccio un esempio Gli italiani Forse Il bonus Con le loro navi Forse Non è così Incredibile Ok Inoltre Se io uso i franchi O io uso i goti Mi aspetto Uno spam Importante Di Fanteria Da una parte E cavalleria Da un'altra Tutti d'accordo? Però Vedete Aspettate Adesso qua inizia Però Vedete Di come Queste cose Basilari Non serve Essere Un pro player Ma è importante Farle notare E molte volte Non si notano Credetemi Anche a dei livelli Molto più alti Allora In questo preciso momento Stiamo vedendo Quello che secondo me È il player migliore Dei quattro E cioè Maximilian Dress Che si piazza Davanti al cancello Del suo avversario Gli piazza un paio Di barricate E poi Grazie Il bonus Dei siciliani Che cosa Gli mette su Ma ha un bellissimo Torione Poi lo sapete Benissimo Che il torione Può venire anche Costruito dalle stesse Unità militari Quindi Si tratta Di una civiltà Adattissima Ad un tower rush Fantastico Guardate Come lo sta facendo Lo sta facendo bene O per meglio dire Questa è una strategia Che ho utilizzato Molto spesso Controli Intelligenza artificiale Bloccargli Il cancello E poi fare effetto Gabbia Ok Le mura Tanto comode Diventano Degli strettissimi Delle strettissime Barre Insomma Ciò che prima Ci protegge Improvvisamente Diventa una prigione In sé In sé per sé In sé per sé In un gameplay Ok Come questo Il player potrebbe Anche sentirsi Come potremmo dire In qualche modo No? Tranquillizzato In fin dei conti Per buttare giù Questo muro C'è 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 Eh Neanche cos'è Beh insomma Ce ne vuole Sì Ma abbastanza Per Cioè Mentre noi abbiamo parlato 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 Si poteva tranquillamente No? Andare a creare Una torre O uno stesso muro Da parte Di Di piccolta La pietra c'era Per i muri O per una torre Tiravi su un attimino La legna Perché è quella Che ti serve E poi tranquillamente Piazzagliano Torre contro torre In qualche maniera La situazione Diventa un po' Un pochetto Meno ostica Ok? Quindi Anche se loro Con le Con le frecce Vanno a Perforare Il tuo muro In sé per sé Ci vorrà più tempo Che se non No? In questa situazione Dove Ci troviamo già Con un muro Già abbondantemente Abbattuto E che Appunto ci dice Di come Quest'azione Sia nata Tanti minuti Prima Il tempo Di reazione Di risposta Inoltre Anche qui A me piace Far pensare Ai player Io Metto Tranquilla Mettete pure Un muro Lì Ma mettetelo Zio Luca Zio Luca Vi dice Mettete il muro Fai il muro Che cosa Succederà Secondo te Questo Questo io devo Porvi come domanda Io la risposta La so Perché ne ho visti Tanti Ribadisco Tre anni Nel settore Un attimino Del professionismo Quattro anni All'interno Di eSport Tantissimi Replay Esperienza Tecnicismi Finezze A non finire Vi devo spiegare Quelle No Io Vi devo dire Se uno Vi butta giù Questo pezzettino Di muro E Lo sapete Che punterà Ancora a fare Altro tower rush Se voi Andate a mettere Quella linea Muraria Secondo voi Cosa potrebbe Mai succedere Chi ha detto Vi metterà Un'altra torre Qua E si avvicinerà Sempre di più Al vostro centro città Anzi Magari Facciamogliela Mettere anche qua Così vi fulmina Anche le persone Che sono Andate a fare la pietra Allora avete imbroccato Avete imbroccato Causa Effetto Cosa si poteva fare Si poteva fare Tanto Una torre Circondata Dalla stessa Mura Ok Comunque Un alloggiamento O qualcosa Che ci serve Per iniziare A buttare giù Due unità Militari Ma non è solo Quello In sé per sé Questo tower rush È stato portato Avanti In una maniera Particolarmente Dritta Ok Quindi solamente Puntando A un A un cancello I che è Sbagliatissimo Un player Tranquillamente Si metteva Un altro cancello Da qualche altra parte Tipo qui Oppure buttava giù Una parte Poteva fare Tutte le porcate Che voleva Insomma In sé per sé Un tower rush Portato in maniera Unilaterale Non può essere Abbastanza Per metterci Nei casini E nei disordini E osservate Il giallo Uno degli ultimi Che si sta Evolvendo Alta Quattordicesimo Minuto Si Si avvicina Ok Però Non è esattamente Questo Avete capito Non è questo Personaggio Importante Che svolterà La partita Anzi no Lui sarà L'ancora Che farà Fondare Il suo stesso Team Ma andiamo avanti Altra questione Importante Quando si gioca In coppia Ricordatevi sempre Che di solito Di base Dovrebbe essere Un 2v2 Che va a creare Un 1v1 O 1v1 Bisogna cercare Di capire Chi è migliore A fare Multitasking Chi è capace A fare Attacco e difesa Allo stesso tempo Chi è capace Di Chi è capace Di Contrastare Il suo stesso Nemico E darmi Allo stesso Tempo Una mano In questo caso Anche nell'email La stessa Picolta Ci dice No guardate Che Stitch È un player Che sicuramente In squadra Se la cava Molto meglio Molto meglio Di me E lo vedremo Sicuramente Avremo ampia occasione Di vedere Questo player Vediamo dove vanno Adesso è stato creato Ed ecco qui Un'altra torre Che Arriva Arriva Giusto Giusto Dove Fa più male Cioè vicino Al centro città Ragazzi Ed è una roba Aspettate che Abbasso un attimino L'audio Del game Ecco Ed è una cosa Davvero Davvero strong Dopodiché Cosa si fa Si arriva ai ripari Ovviamente L'acqua è alla gola Ci si sente Annaspare E Arriverà pure Sì il mio alleato Ma Gli ci vuole anche a lui Un pezzettino Un pochettino Per arrivare No Poco 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 E si va ai castelli È una cosa Che io non apprezzo Lo sapete già Da tanto 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 tempo Ma non sono qui A definire Se io definirei Una strategia Vincente Oppure no È sicuramente Un pagliativo O comunque Una linea difensiva Espressa Al massimo La pietra c'era Gli uomini c'erano La posizione Va anche bene E in sé per sé Ti basta Per tenere in piedi Baracca E burattini Ecco Se in questo preciso momento Anche il giallo Avesse Intensificato Un attimino La situazione Se Il rosso No Non è il rosso Non è ancora passato In età dei castelli No Il rosso Non è ancora passato In età dei castelli Ha usato Molto Ha usato Molto Degli suoi sforzi Per fare questo Tower rush Che non è stato Supportato Adeguatamente Nel ciclo Economico Guardate 32 33 Di macro Errori a non finire Persone Che non fanno Niente Insomma Economia Un po' Stantia Insomma Si è basato Tanto sull'attacco E non tanto Sulla difesa Questa ce lo dici Lunga Sull'elo Della persona Ok Lelo in linea Generale Però Se ci sono Così tanti errori Da parte Appunto Di questo player C'è da chiedersi Da domandarsi Del perché stiamo Soffrendo Così tanto In questo preciso In questo preciso Momento Ok Quindi Bisogna fare Sicuramente Un rigoroso Mea culpa Ma soprattutto Un importante ripasso E qui Non potevo Non dirtelo Amico mio Non potevo Non dirtelo Ok Quindi Abbiamo visto La prima cosa Importante Da fare Quando si gioca Un game Del genere E cercare Di prendere La civiltà Che più Ci Che più Ci viene comoda E che più Sappiamo meglio Utilizzare Del punto di vista Del Dei Dei Suoi bonus Sicuramente Il Cos'è 15% Di bonus Nella creazione Di un castello Ti ha salvato Importantemente Il fondo schiena Se ti fossi trovato Con un prezzo pieno Non so Come sarebbe andata A finire Anche qui Ampia sentenza Ai posteri Però vedete Cosa sta succedendo Il game Tende a essere Lento Tende a essere Stagnante L'attacco È ormai Già bello Che finito Da un bel po' Di tempo Il grande Assente O comunque Chi ha dato Semplicemente Un colpettino Giusto per dire Toc toc Si è Ampiamente Ritirato Con Una macro Terrificante Non sto a considerare La macro Di piccolta Perché È quello che sta venendo Tartassato Più di tutti Quindi Potrebbe aver subito Delle perdite In tal senso E Il secondo punto Importante È sicuramente Quello di Cercare Di dare La leadership O comunque Cercare di Costruire Un modello Una strategia Insieme In comune L'abbiamo già detto Tante volte Non vorrei Non vorrei Ripetermi Ok Ma se il tuo compagno È migliore In termini Qualitativi O comunque O comunque In questo preciso momento Stitch Non è attaccato Da nessuno Può fare tutte le porcate Che vuole A qualsiasi livello Cioè può attaccare Può venirmi a difendere Può fare tutto Perché non C'è niente C'è niente qui Per cui Tecnicamente Non sta facendo niente Bene Passa Potrebbe passare A lui Il comando Un attimino Del team E cercare di Dare informazioni Al tuo compagno Su chi sta arrivando Di dove sta arrivando Puoi dare informazioni Su Chi vuoi attaccare Puoi mettere In dislocazione All'interno Dell'area Del tuo Del tuo compagno O immediatamente Vicino Puoi mettere Senza ombra di dubbio Strutture Torri O comunque Puoi aprire Le tue porte Per dare Modo A una parte Di economia Del tuo compagno Ad esempio La legna Perché ce n'è tante In questa mappa Per cui Non ti costa niente Condividerla con lui E digli Qua Questo Ti metto lì A disposizione Non pensate Siano cazzate Non pensate Siano cazzate Che Tutti dicono Non si dicono mai Queste cose In game Ok Ma soprattutto Non si lascia mai Che un altro player No Dica qualcosa O possa prendere Il sopravvento Su di noi Sul nostro modo Di combattere Una delle cose Dato che Seguo Apex Ed è un trio Ok Una delle cose Che più di tutte Ho visto Che dà un po' fastidio E lasciare il comando O Farsi dare degli ordini Da qualcuno Ordini Comandi Non pensiamola così Puntiamo a consigli Strategie Condivise Meglio? Suona meglio? Bene Qual è la strategia Condivisa Più Più intelligente Che in questo preciso momento Si può dare Al nostro Al nostro Piccolta E Amico mio Guarda il tuo punteggio Sei il peggiore Quindi O Muovi il culo Lo dico proprio così In francese Veneto mode Oppure Scusate Mi sto scaldando Oppure Se non vuoi Venire da me Se non mi lasci Aperto le porte Se Non vuoi sentire I miei consigli Attaccate a stocca E adesso E adesso Che ci troviamo In questa condizione Che avrebbe già dovuto Essere fatta Minuti Or sono Ditemi Quale potrebbe essere L'uscita O comunque Il risultato In questione Il risultato In questione Il blu perde Al 100% Non c'è modo Per lui Non ha niente Non è niente Per poter contrastare Quest'infinità Di torri Più Un castello Che sta arrivando Devi Incrociare le dita E dire Qualcuno Mi salvi E invece Vedi Almeno 5 minuti Prima Bisognava fare Questo gesto Questo scambio Questa comunicazione Che Ribadisco Non è avvenuta Nel tuo caso Ma Credetemi Non avviene Neanche Nelle leghe Più alte Di Apex E non avviene Neanche in altre leghe Alla Valorant Mod Ve lo assicuro Si fa tantissimo Team building In In certe cose Perché appunto Queste minuzie Sembra che Per quanto semplici siano Vanno date per scontate Ma in realtà Nessuno le applica Voi Amici italiani Le avete A gratis Se mi ascoltano Se mi ascoltano Quelli dei Dei clash Secondo me Si arrabbiano Un pochettino Per i tips Per i tips Che vi do Comunque sia Andiamo avanti Il game prosegue Incessantemente Ora C'è un'altra questione Che bisogna mettere In campo E cioè La capacità Di Resettare E ripartire Ok Dato che Ci troviamo In una situazione Terribile Ma Tecnicamente Abbastanza Abbastanza Controllata E per controllata Intendo che I tre castelli Tengono a bada Quello che potrebbe essere Un possibile push Dell'avversario Ok Si siamo tartassati Un po' Dalle frecce Ma Finché questi Non arrivano in campo E non ci buttano giù Il centro città E non si avvicinano E non lo faranno mai Perché appunto Ci sono i castelli Ok Allora la situazione È una specie Di impasse Sicuramente un po' Più spinta Per far perdere Il blu Ma Si potrebbe Continuare così Per almeno altri Nove minuti In game Buoni Ed ecco Che succede Alla svolta La svolta Nella quale Stitch Dà Il colpo di spugna E cioè Un castle drop In faccia A Jimbo Jimbo Che comunque Si ritrova a essere Il player Che non ha fatto molto Ha fatto poco Ha messo questa robetta qui La sua macro Lascia desiderare Un castellino Giusto per dire Butto due freccine Anch'io Ma Tecnicamente No? 2008 di punteggio 2007 di punteggio Uno vale l'altro Essenzialmente Io personalmente Avrei attaccato di più Il rosso Ma l'avversario Più diretto del verde E senza ombra di dubbio Il giallo E quindi Ecco che state vedendo La sua azione E l'azione Che spegne I motori Del team avversario Spegne i motori Di Jimbo E gli permette Di La situazione Si fa tragica Comunque Vi ho detto Il game Può proseguire Ma è comunque A pendenza Del team Cioè nel senso Dove sono le tue strutture militari Sono qui Tartassate Tartassate Da torri Tu fai uscire Il tuo uomo Ok? Guardate Beh Per un bel di quel che si dice Lo salvi Altrimenti Non li salvi neanche così tanto Perché vengono trucidati Ed ecco quindi che dico Ragazetta Non crearli qua I tuoi uomini No Crearli qua No Questa scuderia È appena stata fatta Il laboratorio D'assedio Lo puoi costruire Do cavolo Vuoi Lo spazio Non ti manca Ok Devi Solo Stringere i denti Ecco perché dico Resettare La tua La tua deadline Non può essere Il tuo obiettivo Il tuo focus Deve essere Resisto Resisto Quanto più posso Un altro castello Non sarebbe andato male Ma non avevi abbastanza pietra Ok E allora cosa si fa? Palizzate Mura Qualche torre Si poteva Si poteva tranquillamente Abbozzare O comunque utilizzare Cibo e oro Che a te non mancano E dato che i franchi Sono noti per la loro cavalleria Puntare a Tenere la cavalleria Più safe Possibile Ok E Solo Evitare I push Degli arieti Quarantaduesimo minuto Questo è il primo Laboratorio D'assedio Che vedremo In game Resettare Resetta Ok Stitch Arriva Il giallo Il giallo è bello Il giallo è bello Che è andato Stitch Come vi ho detto Arriva E sicuramente adesso il player Con il punteggio più alto Ma arriva in una maniera Che potrei dire Un po' Raffazzonata Anche da parte Di questo player Un'idea Del fatto che Gotti Ok Spammi Mi raccomando Spammi un bel gruppetto Se li mandi così Uno dopo l'altro E l'altro Per puro caso È bravo Nella micro O usa gli arcieri Tu sei Bello Che spappolato Amico mio Vedi Dovevi semplicemente Resistere Abbastanza Da far finire Le risorse Al giallo Abbastanza Da far sentire Il rosso Che deve dire No Devo tornare Un attimino Dietro Dietro di me Per gestire La situazione Quello sarebbe stato Il momento giusto Per colpire Resettare Obiettivo E poi Focus Ma un focus Condiviso Con il player Mio compagno Credete che tutto torna E i tre Macro Consigli Che abbiamo dato Quest'oggi Sono tutti in linea Riuscire a metterli Insieme Uno dopo l'altro Quindi Una strategia iniziale Del perché L'ho utilizzata Dopodiché Comunicazione efficace Chi è il leader O comunque Non il leader Chi si può Chi è nella posizione Migliore Per poter definire Qual è la strategia Migliore Ecco Mettiamola giù così Valida Non valida Ok Obiettivi condivisi E cioè Io resisto Tu devi solo attaccare Va bene Si può fare Tott minuti Ce li abbiamo E' arrivato Allentata La morsa E la creazione Di nuove strutture E io In quel preciso momento Quando quella morsa Si allenta Tre arieti O Voi non l'avete visto Ma il nostro amico Ha fatto anche Dei petardi Ok E io Riprendo il controllo Della mia area E poi mi raccomando Amico mio Spingere di macro Cioè Spingete Spingete Gli abitanti Del villaggio Eh Si Boh Perché E' stato Jimbo Che più indietro Di tutti Di macro Che non ha dato Una mano A fare niente Che vi ha permesso Di vincere Dobbiamo dirlo Dovete dirlo Dovete essere Consci di questo Bella lì Bella lì Bella lì Uccidi Gli abitanti Del villaggio E poi impara Che Arena E' una bellissima Mappa Ti dà la tranquillità Delle mura Ma quelle mura Che prima Ti danno tranquillità Ti possono Tranquillamente Portare Ad una Lenta Agonia Perché il tower rush Come l'hai visto Qui E' fatto male Ma è una strategia Validissima In questa mappa Ed è Efficacissima Garantita Al limone Al 100% E con questo Ragazzi Concludiamo Questo video Anche quest'oggi Abbiamo dato Sfogo E sfoggio Di un bellissimo Gameplay Grazie mille A Picolta E Stitch Per averci Dato modo Di vedere Un loro gameplay Ne abbiamo Tanti altri Me ne porterò Tanti altri Se il video vi è piaciuto Like Iscrizione Amin Dato 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 Grazie a tutti.